Green economy ed energie rinnovabili, un tema tanto discusso ma raramente messo in pratica. La Fondazione Gianni Chianetta e la Regione Siciliana hanno riunito importanti esperti in materia per dar vita a un convegno volto a sensibilizzare e incrementare il know-how di tutti gli imprenditori. La situazione della Sicilia ad oggi non è tra le migliori in Italia ma è molto promettente. In Sicilia è installato circa il 6% del rinnovabile che è installato in tutta Italia. È sicuramente nella top list ma la Sicilia sarebbe candidata ad essere la prima regione. Paradossalmente la Lombardia è la prima regione e quindi ciò spiega come e quanto la normativa e la stabilità ovviamente del quale la normativa può fare per lo sviluppo del settore. La Sicilia è candidata ad essere la prima perché ha delle situazioni dal punto di vista delle condizioni naturali ovviamente favorevoli dal sole al vento eccetera. E poi la Sicilia ha una posizione strategica, è la punta dell'Europa verso l'Africa che rappresenta il continente che sta partendo in termini di sviluppo economico e che deve e non si può avere sviluppo economico senza disponibilità di energia. Quello di trovare delle soluzioni per quanto riguarda il nostro futuro attraverso nuove energie credo che sia un passaggio importante soprattutto se si pensa al ricaduto occupazionale che questo tipo di settore potrà rappresentare soprattutto in Sicilia. Sicilia che è, qualcuno diceva poco fa, l'estrema punta meridionale dell'Europa io amo pensare la parte più a nord dell'Africa un'Africa che sta cominciando a guardare con interesse alle energie rinnovabili per cui la Sicilia diventa sicuramente un punto di incontro tra l'Europa e questo grandissimo continente per cui l'attenzione nostra deve essere rivolta a questo settore per interpretare un ruolo importante in questa direzione.